E poi abbiamo l'associazione che ha con noi condiviso questi tre giorni, l'associazione Anno Mille, che sono dei combattenti. Eccoli qua, infatti vi vedo là. Un applauso anche all'associazione Anno Mille, che sono qua. Bene, detto questo iniziamo subito con un balletto, un balletto fatto e realizzato dalle danze nostre, dalle danze del nostro gruppo Trapani Medievale. Sono due ragazze che si sono messe insieme, anzi erano tre, ma la terza purtroppo ha avuto un piccolo incidente e non può partecipare a questa festa. E allora adesso vi presenterò due ragazze che faranno un balletto medievale e poi andiamo avanti con l'esibizione. Non vi preoccupate che la Madonna provvede pure al bello ombrello da mettere qua per tutti quanti. Allora, se siamo pronti, sì, siamo pronti, accogliamo con un calorosissimo applauso Letizia e Maria Giovanna. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille.